Ciao a tutti, sono Erika, istruttrice Omnia Pipe Mamiani. Benvenuti a una lezione di posturale. Apriamo leggermente le gambe all'altezza delle spalle e iniziamo con dei respiri profondi. Inspiro. Butta fuori. Sempre più grande. L'ultimo, rimani bassi. Fuota tutta l'aria. Le gambe sono leggermente piegate, la testa pesante. Piano piano per lì su. Guarda a destra. E a sinistra. A destra. E a sinistra. Torno al centro, guarda in alto. Piccolo. E in basso. In alto. E in basso. Unici le mani. Unici le mani. E in giro a stiolati. Lascia andare le mani. E facciamo tutto il giro con la testa. E cambia lato. Torno al centro. Passiamo le spalle delle circonduzioni belle e ampie verso dietro. Prendi l'aria. Ancora. Uniamo i movimenti. delle braccia. Due circonduzioni. Ancavamo. Ok. apriamo il braccio, afferro il polso e allungo e cambia l'altro. Torno nel centro, poi scende le braccia, allunga bene. Qua puoi scegliere se ti è più comoda questa posizione o questa. Ognuno ha la sua. Cambia lato. Apri le braccia all'altezza delle spalle, le mani sono parallele, un braccio va verso l'alto, l'altro va verso il basso. Accompagna sempre i movimenti con il respiro. Ancora una volta. Da questa posizione, apri le braccia e ruota. Cambia l'altro. Cambia l'altro. Cambia l'altro. Torno al centro. Porto le braccia verso il basso, le riporto verso l'alto, ma il respiro allungo bene verso l'alto, come se dovesse andare a prendere la luce. Al mio tre, lasciamo cadere le braccia verso il basso. Tre. Ancora. Inspiro. Giù. Ultima volta. Inspira. Giù. E scendo. Srotolando verso il basso. Vieni su lento. Piano. 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 Ok. Mani sul bacino. Iniziamo a mobilitarlo un po'. Nesto in sinistra. E avanti e dietro. Solo bacino. Tieni le mani sui fianchi. Puoi capire e percepire meglio il tuo movimento. Ok. Tutto in giro. Da un lato. All'altro. Calma. Corro verso l'altro lato. Cambia un po' verso. Ok. Perfetto. Ora. Piedi all'altezza delle spalle. Li uniamo, non troppo vicini. Saliamo sulle punte e spingiamo in alto. E andiamo dietro verso i talloni. Creiamo un movimento che va ad ondolare. Tieni l'equilibrio. Tieni l'equilibrio. Tieni l'equilibrio. E su. Cerca di tenere per pochi attimi il tuo corpo sui talloni. E il tuo corpo sulle punte. Sui talloni. E sulle punte. Ok. Quando ti senti pronto, sali sulle punte e rimani. Respira. Porta in alto le braccia. Spingi bene in alto. Da questa posizione. Stacca una gamba. Poggi. La tieni qualche secondo. Stacchi l'altra. Stringi bene i glutei e l'addome. Poggi. Lentamente porti giù le braccia. E lentamente porti giù anche le dita dei piedi. Perfetto. Ok. Ora che siamo un po' caldi. Possiamo iniziare a lavorare un pochino. Apriamo bene le gambe. I piedi sono rivolti verso fuori. Piego. Cerco di arrivare al centro. Subo un braccio. Scendo laterale. Cambia lato. E' un po' caldo. E' un po' caldo. Non mola. Cambia lato. torna mantieni la posizione delle gambe ruota il corpo e cambia ancora ammollare le gambe e ancora torna al centro appoggia pure le braccia srotola piano verso il basso stendi i gambe e scendiamo inspira sali butta fuori scendi inspira sali butta fuori scendi ok mantieni la posizione aiutati con le mani tenendo le pieglie e torna su piano ci ruotiamo adesso ruota il corpo provo a scendere con le schiena e vado giù verso il piede torno ruota il piede destro e capi a sinistra ruota il corpo prova a scendere con le schiena piatta bambi la posizione e scendere e scendere e scendere e scendere e scendere sei in squat, scendi ancora, vieni a sederti sui talloni, se non riesci a rimanere in questa posizione puoi mettere le mani dietro, spingi bene il cuore e ci andiamo a sedere. Da questa posizione misuratoriamo la schiena verso terra, lascio le braccia in alto, ribalta i polsi, andiamo a lavorare sulle scapole, fai tinta di avere delle lampadine in mano che devi ruotare per avvitare e ruotarle per svitare, concentrati per percepire il lavoro delle scapole, quindi lavorano in intra rotazione e in extra rotazione, respira e concentrati sulla tua percezione, ancora una volta, avvito e ancora una volta, svito. Da questa posizione il palmo guarda all'alto e vado a portare i miei braccio dietro la testa, la schiena sta in posizione naturale, da questa posizione faccio strisciare le mie mani in terra, concentrati sempre sul lavoro delle scapole e su come cambia la posizione della schiena. Ancora, palmo sempre rivolto verso l'alto e ritorna giù. Facciamo lo stesso lavoro, ma portiamo le gambe al petto. e giù. Ok. Ruota le mani, appoggia il palmo a terra. Ora, vado ad appoggiare i piedi vicino ai glutei. spingi in alto, sali dal fonte. Vai al tuo massimo. Mantieni la posizione. Hai i piedi chiusi, le ginocchia chiuse, le ginocchia strette come se tenessero un foglio di carta. Non deve cadere. Spingi verso l'alto, rimani. Respira a fondo. Scendi piano. Stacca una gamba. E salta. Mantieni. Se ti è più comodo, puoi anche tenere così o l'appoggi. Mantieni. Se ti è più comodo, puoi anche tenere così o l'appoggi. nella posizione che per te risulta essere più comodo scendi lento e canta cerca di non spingere troppo in basso, ma di spingere verso l'alto sali bene 9 10 e giù ok ora cerchiamo di mettere insieme due esercizi i piedi sono vicino ai glutei, spingo verso l'alto conto 4 3 2 1 scendo lento e poi sforzo i piedi dietro da qua tenendo forte gli addominali tenendoli forse con le mani che spingono verso il pavimento strotola strotola piano, 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 piano controlla bene la parte a scendere delle gambe piedi i addominali evi di addominali... 1… un piede sono qui conto 4 3 2 1 giù dietro e tieni Tieni, 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 altra gamba, 4, 3, 2, 1, giù, sali dietro, troppo la piana, cerca di usare poco le braccia e tanto la donna. Ancora una volta, tutte e due, 4, 3, 2, 1, un bello slancio dietro e tieni, 4, 3, 2, 1, la schiena e quattro le gambe, 3, 2, 1, spingi verso l'altro, 1, 4, 3, 2, 1, giù, non staccare, vieni dietro e troppo la piana, 4, 3, 2, 1, e le gambe. 1, 4, 3, 2, 1, non muovere ragazzi, spingi dietro e troppo la lente, 4, 3, 2, 1, e le gambe. Ok, porta pure le genocchie al petto, ci sistemiamo, da questa posizione, stendo le gambe, ho la lombare schiacciata a terra. Apri, anche qui ho la lombare schiacciata a terra. E chiudi entro. Porto le gambe, porto le gambe a formare un angolo retto, metto le mani dietro la nuca e salto. Da questa posizione facciamo, stacca bene le spalle, continuo a guardare in alto e non usare il collo. Ok, stendo, apro, chiudo, giù, stendo, apro, chiudo, giù. Stendo, apro, chiudo, giù, stendo, apro, chiudo, giù, ancora una volta. Stendo, apri, chiudi, giù, non mollare. Stendo, dopo, stendo la gamba, apri, sali, e pieghi, stendo la gamba, apri, sali, e pieghi. Ancora una volta. Stendo la gamba, apri. Stendo la gamba, sali, pieghi, afferri le gambe, rilassi l'addome. Ok. Puoi passare le mani dentro le gambe, spingi fuori. Cerchi di buttare fuori tutta l'aria. Andiamo a lavorare ancora un pochino sulle gambe e sull'addome. Rilassa, spingi fuori lentamente, vieni a chiudere. Ok, da questa posizione. Di nuovo spendo le gambe. Spingi bene l'ombelico contro il pavimento e la lombare a tempo. Ora, prendi una gamba e l'altra la fai scendere. Quella che hai vicino non la devi piegare, la devi portare verso di te, fino all'arrivo. Le spalle sono bene su e la lombare è tutta la terra. Da qua, cambia. Cerca di arrivare con il ginocchio o il testo. Ancora. Ci siamo. You're doing 4, 3, 2, 1, e torno le recuperanti. Ok. Appoggia. A terra i piedi. Da questa posizione. Con le braccia avanti, ci andiamo a mettere seduti guidando l'addome. Sì. Stendo la stella, stendo le gambe. Incrocio. E toppo il piede. Torno. E gioco. Metto il basso. E addome. 3, 2, 1, piega le gambe. Vieni su. Stendo le gambe. Ruota. E' così. Torno. Addome. 3, 2, 1. Ok. Ora, lascia le gambe tende. Vieni su con gli addominali. 4, 3, 2, 1. Tocca le gambe. E poi, tocca le gambe. E poi, tocca le gambe. Sto legando le ginocchio due a lì. 2, 2, 1. tutto, addome addome tieni, vieni dietro, le gambe seguono il corpo, mi spingo e salgo in alto a candela, se non riesci a fare la candela non importa, rimani con la schiena e le gambe verso l'alto, da questa posizione se riesci porti una gamba verso dietro, torni su, cambia, se riesci stacchi le mani, torni su, cambia, ultima volta su, porti il ginocchio verso la testa, pieghi le gambe e brotoli piano e vieni su, accendo la pallina, da questa posizione ruota, ruota, appoggiando le mani a terra dal rotto che preferisci, ci mettiamo in quadrupedito, ti stanno sul tappetino, vai sederti sul tallone, allunghi la schiena in avanti, la pancia non attacchi alle cosce, se riesci appoggi la testa sul tappetino, rimani in basso, strisci a terra e sali, in questa posizione rilassa bene le spalle, torna a basso e spingi dietro. Vieni fretta sul tallone, andiamo avanti in quale una volta, quando le spalle sono all'altezza delle mani, spingi dietro, rilassa bene le spalle, respira e torna indietro. Mi siedo bene sui talloni, rilassa le spalle, porto il braccio in alto. Cambierà? Cambierà? Ok, incrocia un piede sull'altro e ti siedi. Cambierà? Appoggi le mani a terra, ribalti il piede sulle punte, lascia le mani attaccate al tappetino e drottola. Se non riesci a spendere completamente le gambe, le mantieni un po' piegate. Rilassa bene la testa e lentamente torni verso l'alto. la testa per ultima, le spalle dietro, un respiro. E grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!